Come Comitato Ristoratorio Solani abbiamo deciso questa mattina di fare la prima consegna appunto come Comitato all'ospedale San Biagio per gratificare, per dire grazie a tutti i dottori e a tutti gli infermieri che hanno lavorato per questa emergenza. Siccome c'è stato comunicato che finalmente il reparto si è svuotato, vogliamo dargli un po' di felicità e siccome noi stiamo passando un brutto periodo ma loro le cose brutte le hanno viste da vicino, vogliamo dargli un piccolo sorriso. Sono sicuro che dopo di noi, che come gruppo delivery siamo stati un po' i primi nostri a consegnare in tutte le case dei nostri clienti e non, abbiamo voluto essere prima a fare questa consegna all'ospedale, ci sarà qualcuno del Comitato Ristoratori che porterà un bel sorriso, un bel piatto, una pizza o qualcosa ai nostri amici dottori e infermieri. Quindi un saluto a tutti e speriamo di vedervi presto nei nostri ristoranti quando si potrà riaprire.